Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e che se ti giochiamo a Roblox? E siamo a 20.000 iscritti! Yeee! Ragazzi, questa mattina abbiamo raggiunto questo secondo traguardo davvero bellissimo Siamo felicissimi, speriamo di riuscire a organizzare uno speciale in questi giorni Abbiamo una cosa carina in mente, speriamo di questa volta di farcela Perché siamo famosi per essere il canale senza gli speciali, secondo me Sì, siamo terribili, siamo davvero terribili con gli speciali, lo ammetto Speriamo almeno questa volta di riuscire a combinare qualcosa di carino Esattamente, in ogni caso finalmente siamo riusciti a rientrare su Roblox In questi giorni credo che abbiano totalmente hackerato il gioco Non si riesce ad entrare in nessun modo, ne abbiamo fatto davvero di tutto per riuscire ad entrare e tornare a registrare E quest'oggi ragazzi abbiamo trovato un nuovo Tycoon che potrebbe essere epico È dedicato a Clash Royale, un gioco che ci ha divertito tanto tempo fa E niente, ho visto un pochettino le immagini e sembra davvero fighissimo, quindi iniziamo Guarda che carino è il baule, guarda che carino è il baule Questo qua è il baule per trovare le cose epiche, no? Esatto, esatto, il baule è bellissimo ed è qui a prendersi la nostra produzione È molto molto carino Allora, ritiriamo i soldi, ho già fatto 480, mi sembra bello veloce come Tycoon È che questa qua è ormai una cosa che apprezzo molto Perché restare 5 giorni per fare un Tycoon diciamo che non è la mia tutta E direi meglio, meglio, allora io non ho visto niente di Tycoon quindi non ho idea di cosa ci sarà Vai, inizia a prendere le prime cose Guarda, oh, oh, ne ho comprato anche un altro per sbaglio Oh mio Dio, i dropper sono con le chest, queste sono le chest free, quelle di legno Esatto Che trovi appunto ogni tottore, è bellissimo Quindi mi puoi dire che poi pian piano avremo anche tutti i bauli molto più epici È bellissimo, bellissimo Allora, quanto costa questo? 400, io ho 265 Però ne abbiamo abbastanza da ritirare quindi possiamo comprare almeno un altro dropper Possiamo, vuoi anche le mura? Le prime mura? Se vuoi, sì, dai, così vediamo Guarda che bellina Oh mio Dio, oh mio Dio Vedi, almeno già queste non sono come i classici, comunque sono il muro dritto Magari un po' banale, invece guarda, sembra già una fortezza È in perfetto stile Sembra una fortezza, è fantastico, è fantastico Abbiamo 1300, allora possiamo comprare una silver chest Ma che bellina Vedi che poi ci sono tutte, che belline I dropper sono fatti davvero bene, sono molto carini E poi il primo upgrader che a questo punto ci sta upgradando 4 dropper E credo che andremo a fare dei big money incredibili Allora, qua ho visto che c'è anche l'Elisir Collector Oh mio Dio Da 5 mila Che quindi ancora non ci possiamo permettere E qua c'è Mega Chest Dropper Infatti sono curiosissimo 2 mila, sono molto curiosa di sapere cosa sarà Abbiamo mille C'è qualcosa di carino da comprare che costa poco? Guarda un pochettino in zona Fammi vedere Oh mio Dio, c'è il mortaio Oh mio Dio 25 mila Lo showcase costa 100, che cos'è? Showcase Ah, ok, per piazzare E' la pedana dove metti tutte le cesse, giusto? Diciamo una sorta di mensolina in cui metti i pauli Esatto, solo che 25 mila per la prima direi che dobbiamo aspettare un po' No, direi che magari prima gestiamo la produzione e poi pensiamo anche a queste cose estetiche Possiamo comprare il primo Mega Dropper? Ok, allora, ho potenziato le mura e messo la porta Che belline, che belline molto più alte, una vera fortezza È carinissimo Lo so Mi piace molto che sia proprio tutto curato così a tema Mi piace davvero un sacco È un villaggio carinissimissimo Allora, sei pronta? Sì, anche perché, sì, a parte che sono pronta per i tuoi dropper Però volevo dire, sembra proprio un villaggetto medievale Ci hai fatto caso? È troppo carino Sembra un po' Clash Royal e un po' Clash of Clans Sì, esatto, sembra proprio una cosa medievale Oh, ma questo è epico, è gigante Questo è il baule della corona, sarà? Quale sarà, secondo te? Gigante Non saprò cadere blocchi più grandi di noi, praticamente Meglio, saranno un sacco di soldi Lo spero Quelli, oh mio dio, bellissimo, così grandi Allora, adesso abbiamo la Golden Chest Ok Un'altra Golden Chest e un'altra Golden Chest Ok Sì, però vedi, era la Golden Chest, infatti penso che sia tipo la Crown Diciamo un'altra volta Golden Chest e facciamo Tombola Esatto, esatto Guarda, c'è un'altra qui, è pienissima, è pienissima Però è meglio, fanno blocchi più grossi, quindi suppongo anche che Aumentino i soldi della produzione, quindi di certo non ci lamentiamo Esattamente, comunque non hai salutato una persona Chi? Ah Ah, allora Ah, cosa? Dovresti essere felice di vederlo Allora, vieni qua Facciamo la rap battle tra Signor Maialino e Capitan Jeff Tu Golden Chest, adesso non li senti, loro si stanno insultando Con a suon di rap, hai capito? Posso farti notare una cosa? Cosa? Capitan Jeff è più alto di Signor Maialino È solo perché il tuo personaggio è più alto No, no, è chiaramente più alto Non è vero, non è vero Guarda, è anche di un bel po' caramina È solo perché il mio, vedi, è il mio personaggio più basso Non è più basso il tuo, cioè non è più alto il tuo Non è le prove, mi dispiace Sei tu che stai sbagliando Abbiamo messo lì per la prima Golden Chest, sei pronta? Vai, 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 vai Ma la vedi che è scintillante No, non è uguale, perché ho ragione Questa sarebbe la Crown Chest Ok, e questa è la Golden da 8 ore E invece questa è la Golden, quella da 8 ore Penso che siano suddivise così Perché come vedi sono diverse E la Golden è pure tutta sbrullucicante L'hai vista? È fantastica Io spero solo che portino Big Money Perché ci sono un sacco di cose da comprare che sembrano epiche Avevo il dubbio se fosse un dropper Eh sì Guarda che cosa è bellissima E il coso dell'Elisir, però butta, capito, anche questo l'Elisir E visto che poi i quadratini sono rosa, esattamente come il colore dell'Elisir È fantastico Che poi è carino, guarda È molto bello esteticamente, esatto Sì, l'hanno fatto molto, molto carino Allora, abbiamo i Moni per il secondo Elisir Che lo mette da quella parte Wow, sì, carino Leggi questo un attimo Cosa? Leggi, leggi Inferno Dropper, cosa sarà? Non lo so Qualche dropper fighissimo, vero? Ti farei notare però che parte da qua Quindi sarà gigantesco, capito? Cioè, guarda quanto è distante Per quello che ho detto, un dropper sicuramente è fighissimo Poi costa pure 60.000 Quindi sarà bellissimo per forza Cioè, è assurdo, è bellissimo Esattamente Quanti su li hai? Ok, 22.000 Quindi cosa possiamo prendere? Ok, dai Così almeno finiamo la prima parte della produzione Meglio, meglio, meglio Interessante A 40.000 qua c'è la Magical Chest Dropper Eh, quella è bella Ok, ok La produzione sta diventando bella avviata Guarda, guarda i blocchetti ormai come sono veloci a scendere Quindi direi che non è male Allora, ci sono tantissime cose all'interno del Del take on Che io ho un'idea di che cosa possano essere Nienche io Cioè, vedo l'ora che finisce la produzione per provare a vedere cosa sono Esatto Per ora dobbiamo stare calmi e aspettare un attimino Allora, io voglio provare giusto fuori Perché io ho visto che c'è una cosa che si può comprare Mi devi aprire la porta No, 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 tranquilla Voglio vedere giusto se funziona Sì, ha funzionato Ecco, perché avevo notato che fuori c'era la possibilità di mettere Log Rider Ma non vedevo il tuo bottone Probabilmente si era bugato Però passando in quella zona Vedi che te l'ha data Aspetta Ma sta guardando nella direzione giusta il mio Aspetta È normale che guardi verso qua Guardami Oh mio dio, però è carinissimo Aspetta, voglio stare in testa Ma come ci hanno fatto a farlo? Non lo so È bellissimo Probabilmente è stato disegnato a mano da chi ha fatto il piccolo Ma questo è il padre di signor Maialino? Sì È lui? Sì L'ho riconosciuto? Sì, sì, esatto Lui Quindi i genitori di signor Maialino fanno la cavalcatura a Log Rider Sì, no, allora non è proprio il genitore Ok È un antenato Ok Praticamente gli antenati di signor Maialino, come vedi, erano dei combattenti e andavano in guerra Ok Quindi per quello poi signor Maialino ha questa vena un po', diciamo, cattiva, un po' malvagia, tra virgolette Perché comunque tutti i suoi antenati hanno questo passato di guerra, di guerriglia È molto chiaro, certo Quindi diciamo che la malvagità scorre nel suo sangue, ok? Va bene Ho inventato tutto adesso, lo sapete Ah, non si nota Torni dentro, va Ci sei? Sì Sì Vai Sì, sì, vai, fammi entrare Ok Ma no, mi hai chiuso la porta in faccia No Ma che persona terribile che se l'hai fatta a porta Eri già dentro Allora, allora, sai cos'è successo? Che ho ammazzato signor Maialino No, che sei stato geloso perché hai scoperto il passato epico di signor Maialino Eh sì E quindi mi hai voluto uccidere Molto epico proprio Mi hai voluto uccidere, guarda, non tornerò mai più nel tuo tycoon No E adesso possiamo fare un po' di shopping Yeah, finalmente Lo so Allora, partiamo da Bispel Valley Cosa sarà? Cos'è questa cosa carinissima? Allora, la Spel Valley, se non ricordo, è tipo l'arena 5 o qualcosa del genere Quella delle pozioni Ma sembra tipo un calderone per creare delle pozioni Le pozioni, infatti vedi? Ice potion, pozione di ghiaccio E se la compriamo la potremo utilizzare? Oh mio Dio, quindi diciamo che stiamo creando l'arena di Clash Royale qui dentro E la possiamo usare per fare pozioni Non lo so, non lo so Non voglio dire cose che magari non ci sono ma spero di sì Però dovremmo provare perché se poi possiamo usare le pozioni diventa tutto più divertente E adesso ma questa è 25.000 Eh lo so, lo so, sto dicendo che dovremmo provare Ok, ok Non che lo devi fare adesso Pronta? Sì Questo è il logo È un po' brutto questo, scusa Mi aspettavo qualcosa di gigante Invece vabbè, dai, ok, ok, ok Apprezziamolo sotto Esatto E i 5.000 rubati Si apprezza sempre Signor Maialino sta insultando Lui non lo potete sentire perché si censura Meglio così, meglio così Si è arrabbiato perché si aspettava il logo gigante Guarda, pronta, questa è l'ultima cosa di shopping e poi si torna i dropper Ok, ok L'ho fatto solo per farti un po' felice Va bene, grazie, l'ho apprezzo Giusto perché comunque ti ho ammazzato Non era affatto a posto Ah, quindi ti stai facendo perdonare Esatto, esatto Ok, ok, accetto le tue scuse Vai Oh Oh mio Dio, che cos'è questa cosa? No Ma ci posso entrare? No Hai capito che cos'è? È la capanna dei barbari Sì Certo che ho capito cos'è Questa è la carta poi di Clash Royale È la capannetta dei barbari E per 10.000 possiamo comprare proprio il barbaro Che credo che sia fuori dalla capanna Oh mio Dio, è fantastico È fantastico Cioè, ma scherziamo È troppo bella questa mappa Abbiamo dovuto aspettare una vita Però finalmente abbiamo un po' di soldi 61.000 C'è un consolino che ci sta sparando palle Non so da dove se ne tirate fuori Però sono bellissime Probabilmente qualche arma Qualche arma che riusciremo a ottenere Mamma no che sblocchiamo le cose Mentre camminavo, ragazzi, per sbaglio Ho preso il barbaro È accativissimo sto barbaro Guardalo, guardalo C'è una faccia super arrabbiata Questo è il zio di signor maialino Sì, sì Anche lui e suo parente Erano Aveva anche parenti barbari Non so per quale motivo Si vede la somiglianza, no? Però è fantastico, guarda Sì, guarda Hanno proprio lo stesso sguardo malefico Non trovi? È fantastico No, dimmi Ok, oddio Stavamo laggando Ho avuto paura che fossimo crashati Ti concedo una super comprata Ok, bello Oh mio Dio Oddio Ma che è? Oh mio Dio È enorme Ma butta qualcosa? Ma cosa fa? C'è un tasto qua? No, no È solo una luce Scusami Ah, peccato Mi riluso Anch'io Voglio salireci sopra Voglio vedere cosa fa Ah, ok Una volta ha buttato Butta un blocco rosso gigantesco Ma ci mette due ore e mezzo Siamo pieni di soldi Ma prima guarda Questo è l'albero di Natale Oh che carino Io adoro le cose di Natale Con i pacchetti Ma li posso prendere? No Oh, però li posso prendere a calci E poi vedi Questa è l'altra arma C'è tipo Stai ferma Ok Io adesso Ah Fa i suoni di Natale I campanelli di Natale È solo quello Comunque probabilmente È stato un take Un fatto Fatto nel periodo di Natale L'hanno lasciato Può essere Allora Certo che in pieno agosto Anzi Siamo a settembre Ma diciamo Col caldo che c'è in questo periodo Far vedere le cose di Natale È un po' fuori luogo Comunque siamo a caro agosto Mi sa che oggi è 31 Oh mio Dio E se compro la bomba Posso mettere la bomba nel canone? Non lo so Prova Eh C'è la lag Ok Bomba Bomba Ok non lo so Forse te la puoi tenere per i fatti tu e basta Sei riuscita a prenderla? Sì Ok Scappa Scappa Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ops Hai fatto esplodere il consolino Sì Non si è accorto che c'era la bomba e l'hai fatta esplodere Io volevo caricare il cannone No non si può caricare il mortaio Puoi solo prendere la bomba Ci riprovo No No Scappa Gli aiuto Ma sei matto No non lo puoi caricare Vai via con quelle bombe Vai via Ok Vabbè Sei pericoloso Calmati un attivino La casa del pecca Centomila però No Dimmi che ce ne abbiamo Non lo so Quanto siamo riusciti a fare Ventitré Ok aspettiamo quella Ok dai sì La casa del pecca la voglio vedere E poi visto che qua c'è l'arco X Stanno apparendo un sacco di cose Man mano che si va avanti Stanno apparendo tantissime cose Lo smetti di tirare le bombe addosso Guarda che ti ho visto Ok Me l'ha detto il signor maialino che ti ha visto Sì sì Non ci provare Non ci provare Guarda sono qui sopra Smettila Se ne ha perso la terribile Smettila Ho un regalo per te C'è anche la Tesla L'hai visto? Dov'è? Qua a fianco a te lì Diecimila Diecimila? Sì vai Dai Prendila ormai Tanto ne dobbiamo aspettare centomila Bellina Più o meno Dai non è carinissima No dai Me l'aspettavo un po' più alta Perché la Tesla è enorme A modo suo è carina Dai sì sì Apprendiamo Ci sono dei cannoni Da cinquantamila Un'altra Tesla La casa di pecca La casa di pecca la voglio vedere Ti dico che è la cosa che voglio vedere più in assoluto Quella ce la dobbiamo concedere Anche se questo tycoon è buggato Almeno quella l'aspettiamo Li hai presi i soldi? Non ti vedo Sì 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 75 mila Ti devo far vedere una cosa Vieni ti devo dire una cosa Cosa mi volevi far vedere? Ti devo dire un segreto Signor Maialino ha una cosa da dirti No no l'avevo vista Signor Maialino aveva una cosa esplosiva da dirti L'hai sentita? No No io ho visto tutti i tuoi pezzi volare via Quindi secondo me l'hai sentita Hai visto male Era una tua impressione No no Hai bisogno degli occhiali Ti ho visto proprio esplodere Non mi sto sbagliata Capitan Jeff dice che hai bisogno dei nuovi occhiali Vattene Ok dai calmiamosi un attimino Ok A quanto sei? 86 mila Dai siamo vicini Allora io queste cose le lascio riperdere Perché alla fine si appaiono solo le cesqui sopra Dire di pensare prima a comprare le altre cose no? Esatto Io mi rivevo la mia bella pozione Che è inutile Magari ti congelo stando vicino Non lo so È proprio inutile Sono 25.000 rubati Non cerchiamo di trovargli un senso Sanno rubato 25.000 Perché secondo me non ce l'ha Quindi lasciamo perdere Dammi i soldini Dammi i soldini Niente Per rendere tutto un po' più emozionante Ah sì Se è 98.000 Manca pochissimo Sì ma lo vedi che non stanno aumentando i soldi Ah ok adesso No guarda C'è una lag improfonibile Vabbè dai Vabbè vabbè Prendiamo Ok Oh 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 Aiuto Bombe bombe Attenzione Ok ok Ce li ho ce li ho Sei pronta Ok vai Sì sono pronta Non è apparsa Oh mio Dio È gigante questa È gigante Questa è bellina però eh Si può entrare dentro Sì Oh mio Dio Aspetta aspetta Ma no Che succede Vedi Fai uscire Perché è un po' pagata però Il tour dura davvero poco Ma è davvero davvero carina Comunque esteticamente davvero carinissimo È un peccato che non ci sia molta roba a fare E che si ha assai buggato il dropper In ogni caso ci stiamo divertiti a giocarla Ragazzi speriamo che i problemi di Roblox stiano passando Perché davvero Sì assolutamente È assurdo quanto sta dando problemi Speriamo che passi tutto in fretta Perché vogliamo fare tantissimi video nuovi In ogni caso ci fermiamo così Dai è stata divertente Mi piace un sacco la roba che abbiamo preso Sì dai tutto sommato Sì è stata un po' lunga Quello sì però dai Sono abbastanza soddisfatta delle decorazioni che ha dentro Quindi direi che è andata bene Beh ragazzi piace così Lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao